Perché l'ostruzionismo del 5 stelle vi accusano di non voler far andare avanti le riforme importanti? Le riforme costituzionali che sono la parte più importante non può avvenire in questi tempi, cioè discutendone solamente tre ore in Commissione Affari Costituzionali e non può avvenire nel silenzio dell'estate. Noi chiediamo che la discussione parta a settembre e che coinvolga tutta la cittadinanza, non si può passare a un presidenzialismo senza coinvolgere la cittadinanza. Questo ci sembra molto molto grave. Se si vogliono invece fare degli altri provvedimenti si spostano il disegno di legge costituzionale e quello sulla legge delega comunitaria a settembre e si parla ora dei provvedimenti sull'abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti, l'omofobia e tutto il resto.